Cartoline da Cremona, città di musica, arte e cultura che dal turismo vorrebbe trovare l'infa per crescere. Scorci da immortalare per visitatori che hanno dimostrato di apprezzare le bellezze all'ombra del Torrazzo come testimoniato dalla crescita delle affluenze nel 2018. I turisti cercano Cremona, ma Cremona è pronta ad accogliere i turisti? Chiedetelo ai camperisti che nelle ultime settimane si sono trovati nell'imbarazzo di dover cambiare aria in tutti i sensi. Per i viaggiatori itineranti che con i caravan raggiungono la piazzola di scarico presente al Foro Boario lo scenario si fa meno poetico del previsto. Ci segnalano che dalla scorsa estate l'area è fuori uso, con le grate ormai intasate e odori nauseabondi. I cartelli ribadiscono il concetto, la piazzola è momentaneamente fuori uso. Per lo scarico allora bisogna rivolgersi al campeggio in Via del Sale. Lasciamo così il Foro Boario per avvicinarci al fiume, alla zona golenale e al camping segnalato. Qui sorge il problema, il parco è chiuso, in ogni suo accesso e per ogni suo servizio. La piazzola di scarico resta inaccessibile dietro la recinzione. In giro per l'Italia le città e i paesini anche più piccoli costruiscono aree sosta e zone per i camperisti che sono sempre più in aumento. A Cremona invece fanno il contrario. È questa la protesta di un camperista che per avere accesso alla piazzola sarà costretto ad aspettare fino a marzo.